voglio mostrarvi solo velocemente come i messaggi inviati il sistema di comunicazione manuale automatico è tracciato all'interno del sistema in quest'area vedete tutte le mail che sono state inviate così come whatsapp in manuale in automatico oppure dal sistema su cancellazione gestione delle agente questa è un'area dove trovate tracciato esattamente tutto quello che è comunicato con il cliente cliccando poi su ogni singolo dettaglio le chat sono tracciate all'interno del sistema e potete andare a verificare in qualsiasi momento ed aggiungere o comunicare nuovi messaggi